Benvenuti a questa nuova edizione del TG Med. Sono oltre 18 le tonnellate di hashish sequestrate dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza su due pescherecci bloccati a 22 miglia da Pantelleria. I 25 uomini e l'equipaggio sono già in arresto. A quanto pare le due imbarcazioni prive di bandiera sono state individuate mentre erano in navigazione nel Mediterraneo occidentale. Sono state poi tenute sotto osservazione fino a quando arrivate a breve distanza dalle coste siciliane. Sono state raggiunte ed abbordate con due distinte operazioni dalle unità navali d'altura di Palermo e Cagliari. A bordo è stata trovata anche della droga e dei grossi quantitativi. I finanzieri hanno portato i pescherecci nel porto di Trapani e all'interno hanno infatti trovato 700 pesanti pacchi di hashish quantificati in 18 tonnellate e mezzo. Passiamo alla politica perché sta suscitando non pochi malumori all'interno del Partito Democratico Siciliano la mancata nomina tra viceministri e sottosegretari disponenti proprio dell'EPD locale. Secondo il segretario Fausto Raciti le mancate nomine mostrano una considerazione della Sicilia secondaria. Dello stesso parere anche Mila Spicola che invece del partito è vice segretario regionale. Sono stati riconfermati invece nello schieramento opposto i due sottosegretari del nuovo centrodestra che facevano parte già del governo Letta ovvero Simona Vicari allo sviluppo economico e Giuseppe Castiglione all'agricoltura. L'ex capogruppo PD a Lars Cracolici deputato anche nell'attuale legislatura ha risposto alle domande dei PM che stanno indagando sulle spese dei gruppi parlamentari a Lars. Ho risposto in merito a tutte le spese centesimo per centesimo il modello organizzativo del gruppo equiparato al Senato. Stilevamo bilanci di previsione e consuntivo assetto che prevedeva una serie di ruoli dal presidente al vice e dal tesoriere all'amministratore. Insomma secondo Cracolici per quanto riguarda il gruppo del partito democratico tutto è rendicontato. Nessuna associazione si è ancora costituita parte civile al processo al somalo 34enne accusato di far parte dell'organizzazione di trafficanti di esseri umani che hanno sequestrato e torturato i migranti naufragati davanti alle coste di Lampedusa il 3 ottobre scorso. Nell'incidente lo ricordiamo morirono 366 persone alla prima udienza celebrata in corte d'assista d'agrigento. È durata solo pochi minuti però nessun ente a tutela degli immigrati ha chiesto di partecipare al dibattimento. Assenti anche le otto persone offese che erano state citate. E' fissata per il 12 maggio la requisitoria del PM nel processo con il rito abbreviato ad Aldo Nuvola l'ex sacerdote arrestato a luglio con l'accusa di induzione alla prostituzione e atti sessuali con minori. Si sono costituiti parte civile i ragazzini che sarebbero stati molestati e con loro c'erano anche i genitori. E per il momento è tutto. Io vi ricordo tra le edizioni del TG Med anche quelli della sera alle 20.30 e alle 22.30. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.